ciao ragazzi oggi giochiamo a nintendo switch sport io sono già pronta anch'io siamo tutti caldi vediamo le modalità di gioco gioca con tutto il mondo si può giocare online anche con i propri amici ovviamente e noi giocheremo in locale per fare la prova ci sono sei sport pallavolo bendito bull in calcio chambahara e tanish alcuni si possono giocare anche in quattro alcuni da uno a quattro alcuni solo da uno a due alcuni sono gli stessi del mitico wii sports te lo ricordi a lei ovvio ma nuovo c'è calcio pallavolo e bendito cominciamo col pallavolo si così giochiamo tutti e quattro adesso facciamo personaggiare il pofilo abbiamo già cominciato sono molto carini nuovi amatari sono veramente belli si può mettere sopra anche la testa da me e si può scegliere il titolo quindi non solo esordiente come ha scritto il cliente ma ci sono varie cose padre madre papà sono i cialdi papà cucciolo 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 grazie ragazza io dico c'è anche i gattini avanti io mi metterò gattina cucciosetta se c'è sarebbe bello ci fosse il cuccioso l'unica piccola nota negativa è che per avere degli accessori e quindi gli occhiali personalizzarsi i cappelli eccetera non vale giocare e migliorare il locale, ma bisogna giocare online, quindi bisogna avere l'abbonamento a nintendo online. Poi se puoi personalizzare il corpo, i capelli, eccetera, tocca a me. E anche il nome ovviamente. Io sono gattina estrema. Mamma per sempre. Ma dove sei appoggiata? Eh, qua, guarda. Sui figli. Fandela nonna, fandel nonno, fandela mamma. No. Fandela papà. In posizione. Ok. Andiamo a giocare. Allora, io col papà. Ok, allora ricambia. Ci combiniamo. Pallavolo. Palleggio. Muro. Palleggio. Palleggio. Basta giocare come pallavolo nella realtà e fare gli stessi gesti. Potete farlo in piedi, che è super divertente. Tutti pronti? Sì, siamo pronti. Vai, Michi, in battuta. Guarda il mio collate. Vai, Matti. Il tempo fondamentale, bravissima. E? Sì, un po' mi piaceva, non ce l'ho fatta, schiacciata. Murati. C'è Murati, guardate lo slow motion. Ma ti sei aiutata col nastro, eh? Col nastro, pensavo. Vai, Michi. Oh, ma. Michi batte verso di me. Ce l'ho. No, molto in ritardo. Molto in ritardo. Bisogna prendere, sì, appunto, bene i tempi. Devo essere più rapido. Vediamo da chi batte, Michi. Ancora verso di me. Faccio prima. Ma no, l'ho fatto prima. No, ancora me. Vai. Questa volta ho fatto prima. Oh, pronti. Vai. Schiacciata. Ah, visto? Ho aspettato. Ho aspettato perché ho visto il muro. Dentro, buono. Sì. Guardate, guardate la pallombella. Stavo scendendo e ho pallombato. Tu, Michi. L'ha battuta, Matti. Mi spoglio. Con lo stick si può andare solo. No, mi spoglio. Grande. Oh, ma cosa è la schiacciata qua? Batti cinque. Ma vadovi a coprire un sacco. Guardatelo, bellissima. Best point. Quando fate passaggi tutti giusti, dal punto di vista temporale, la schiacciata diventa viola. E super forte. Mi ha. Non riesco a schiacciare bene a tempo. Sì. E va. Prima dovevo farlo. È bellissimo. Le mie parole belle sono etiche. Ma è colpissimo con la pancia o con la mano, secondo me? Di contatto. Ancora prima si può fare. Tocca a me battere, adoro. Vai, vai, vai. Lai in fondo, vai in fondo. Occhio, occhio, Matti. Attenzione, la schiacciata. No. Lungolinea. Bravi, bravi. Molto bravi. Facciamo una ridicità. Sì, perché dobbiamo scaldarci prima. Poi, ragazzi, proveremo gli altri sport. Guarda, schiacciata di coppia. Schiacciata. Ma sono troppo pucciosi. No, sì, sono bellissimi. Sempre lì in battuta. È giusto. Vai, adesso sono pronto. Allora, vai, Matti. Adesso. Prova. Ottimo. Benissimo, ottimo. Sì. Vai. La panombella però funziona. Sì, bene. Funziona. Occhio, non sta attento in difesa. Dove me la tira? Dove me la tira? Vai, ce l'ho, ce l'ho. Vai. Va bene, va bene. Ok. Molto tantissimo, va bene lo stesso. Peccato. Sottore. Vai, di chi? Occhio. Va. Va. Non mi ha scritto un po' in ritardo. Stai migliorando prima. Grazie. Prendo il voto. Vai, Matti. Con fitto su di te. È arrivata. Bravissima. Un po' in ritardo. Sono sempre tardi. Palombella. Allora, io sono dietro. Dove tira ad angolo? Là? Di qua. Di qua. Ah, l'ho presa. Ma come in ritardo? Ho fatto subito così. Devi farlo. Quando la palla è subito di te. Occhio. Ok. Ok, che parte, eh. Quindi. Adesso. Bene, grazie, Matti, dell'indicazione. Ok. Vai. 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 Ma perché? Non riesco a schiacciare. Sì. Però funziona lo stesso. Ho avuto una paura. No. Sì, sì. No. Sì, sì. Io no. Mi chiamerò il palombellatore. Aspetta. Vai, giro. È una bella finta, Matti. Tu, Ricky. Occhio adesso, hai il muro. Devo andare in posizione giusta. Vai, Ricky. Sì. Non toccata. Non lo so. Vai, Matti. Brava. Ok. Molto in ritardo. Ma tu puoi saltare. Bene. Sì. L'è la sua prima schiacciata, Matti. Guardala. 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 Avete visto che salto. Bello, bello. E la battuta di Matti. Vai con la rimonta. Oltre il muro. Vai, adesso. Ho sbagliato posizione. Eh, questa non la prendeva nessuno. Vabbè, ragazzi. Questo era un missile. eh. Non rivediamolo neanche. Valla mia. Attenzione. Dove va? Dove va? S'universo di me. Vai, papà, vai. Presa, presa, presa con ottimo. Vai. Avanti. Adesso. Adesso. Ce l'ho provato. Palombella, palombella. Ah, l'ha presa, l'ha presa. Sì. È stata salvata. 4, 3. Vai di là. Brava. Sì, ce l'ho fatta. Sì. Sì. Sono troppati. Che tensione. Dove da farlo spaleggio. Che tensione, ragazzi. è una miglia con due punti di vantaggio. Oh. Alza. Vai. Mia. L'ho fatta tutta, gliel'ho fatta tutta. No, l'ho presa, l'ho presa. Occhio, occhio. Oh. Sì. Dai, dai. Ma che bello. Vediamo. Eh. Ah, ma aspetta. Due punti di vantaggio. Sì, sì. Non è detto. Centrale, centrale, dritto per dritto. Occhio, Matti, occhio, eh. Vai, Matti. Ah, ho. Sì. No, sono tanto. Cinque pari. Ma avete visto il tuffo plastico? Guarda. Guarda. Guarda, Nicky, guarda io. Sì, usate. Eh, Nicky. Così. Tutti lo sanno fare. Sono bellissimi. Vai, Nicky. Occhio, parità. Il prima si scalda. Ah, che tensione. Ma, 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 ma. Sì. Che muro. Vai, Matti, vai, che ho visto. Tira di su. Grande. No. E vabbè, ragazzi. L'avete fatto un punto incredibile. Applausi. Brava. Matti è stata bellissima perché ha preso, bravissima perché ha preso il primo punto. E si è rialzata. Molto brava. Occhio, Matti. Brava. Ok, sono un po' irritato, come sempre. Ah, Nicky qua. Di là, pallon bella va bene, pallon bella va bene. Buona. Occhio. Adesso devo prendere. Dai che siamo forti. Sì. No. Sì. Bravi. Bravi. Prossimo sport. Badminton. Sì. Poi non c'è. Un gioco che Matti, che Matti adora anche nella realtà, ragazzi. Abbiamo le racchettine, la mini retina e ci giocavo in giardino. Vai, Matti, fai tu, fate uno scontro tra voi. Io faccio tivo per Matti perché è stata mia compaglia di squadra. Eh, certo. E io per Mickey, ok. Funziona come il badminton, vero? Quindi lo schiacciate, eccetera. Io dovrei. L'unico tanto da schiacciare è lo Z qua sopra perché vi permette di fare la smorzata, se volete. Ah, per la palla cotta. Yes, per la palla cotta. Cinque punti, come la palla a volo. Partita veloce, Niccolò serve e Matti respinge. Non bisogna tirare troppo forte, eh? Però cadi. Ah, veramente? Sì, e poi cercare a prendere bene la palla. Ma che bravi che siete. Ma siete bravissimi. Guardali. Non finirà questa partita. What the? Ragazzi, mettetevi comodi, prendete le patatine e scaldate il vostro pollicione. Uh. Battuta da sotto, grande. Mi trovo a fondo campo. Ah, per orientare il tiro ovviamente basta utilizzare il gioco. Quindi voglio tirare a sinistra, vado a sinistra. Vado a destra, come ho fatto Matti da adesso? Vado a destra, un bel tiro a uscire. Matti da incrocia, fa correre Niccolò, lo fa sudare, lo fa sudare. Uh. Oh. Ah, Matti. Buon attacco. Ah. Mattà. I te. E tu. Matti. Uh, tornate in campo. Dove sono? Uh. Adesso ci spieghi come si fa a scherzare di che. Non lo so. Quando è alta, fai così. Ok, chiaro. Per seguire, muovi il Joy-Con dal basso. Torna in campo, Niccolò. Verso l'alto. A fondo campo. Brava, Matti. Vai, ti dirà nell'angolo, ti dirà nell'angolo. Vai, Matti. Eh, anche me, quando ho provato a giocare, mi vede voglia da scherzare, ma non è così facile. Anche lì ci vuole tempismo. Cioè, se prendi il momento giusto. Quando è bene in alto. Come la... Uh, ma questa era la smorzata? Sì. Ah, ok. Per smorzarla, Matti, il tasto sopra. È grosso. È corta, così. Così fai la palacola. Per capirlo, mi decide di essere lineare a puntini. È vero, si vede anche la scia, proprio. Niccolò la vostra sinistra, Matti, dalla vostra destra. Bella lì, Matti. Hai visto che era in difficoltà? Molto bene. Sbossata da giocare ogni tanto, ovviamente. Buona lì. O magari tanto dietro nel campo. È vero, perché più fatica ogni tanto notate che il personaggio è delle goccioline. Eh, sì. Ah, sì. Match point. Ah, sì, la faccio. Niccolò va a tutta sotto. Matti risponde con una bella smorzata laterale. Niccolò va a fondo campo. Quanto netto. Vai, Matti. Quanto netto smorza, Matti non si fa ingannare. Niccolò, tiri indietro. Vai, Matti. Vai, Matti. Vai, Matti. L'hai fatto correre tantissimo. Vai, Matti. Deve sbagliare, deve sbagliare. Hai accorso tanto. Vai, Matti. Uh, l'hai presa per un soffio. Incrocia. Ah. Eh, la smorzata è terribile. È molto cattiva. Mentre sugli spalti ci si rinfresca. Ora tocca a noi, genitori, sfidarci a calcio. L'altra novità. E poi, chi vince avrà un po' di aria. Oh, grazie. Guardate la mia posa. Sì, fai ok, così posso piazzarmi a giro. Volevo mostrare che le cose cambiano, Ale. Guarda che bella. Ma per sempre. Uno contro l'altro. Uno contro l'altro. E direi livello normale. Sì, sì, partiamo così. Papa. Mamma. Hai visto la mia curva? Papa. Per calciare, ragazzi, basta fare così. Col braccio. Tipo tennis. Verso l'alto, verso il basso. C'è la velocità. E c'è anche, quando si sprinta, la velocità. Il turbo. Però finisce. Devi fare gol nella porta rosa. Premendo la A, chiede ai tuoi compagni di passare. Attento. Vado, vado, vado. È che siamo scambiati di posizione. No, no, guardatela. Grande, in tuffo. Uh, grande. Ma fatemela prendere. Non vedo la palla. Vai, mamma. No, 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 no. Devo fermarla. No, no, mamma. Sono troppo stanco, avete visto. Ma c'è Gabby che mi aiuta. C'è Gabby che mi aiuta. Via. Un bel tiro. No, come? Autogol. No, no. No, no, c'ero io che tirava. Guarda, guarda che andiamo in attacco. Sì, vai. Le goccioline. Tira qua la palla. No, no, no. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa Misaki. Passa, Misaki. Grande Misaki. Ho fatto il tuffo. Adesso è mia. Vai. Guarda come avanzo. Tuffati. Vai via. Palla avanti. Palla su. Adesso string. Ragazze, palla su. Guarda come corro, guarda come corro. C'è un passato che mi schiava Yoshi. No, come c'è Yoshi? No, Ale. Vai Misaki, passala, passala. Vai. No, come? Misaki ha perso palla. Sì, perché mi sono sacrificata con la faccia. Il campo sembra grandissimo, tipo quelli di Oli e Benji, Ale. Vai bene. No, 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 no. Grande Gabi. Vai, vai. Su, vai, su. Viene, bene, 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 bene. Guarda che c'è Barbara. Palla, 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 palla. Palla. Palla, palla. Facendo B si salta. Io sono salto sulla palla. Gran controllo. No, 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 no. Vai Yoshi, voshi. Vai Yoshi, voshi. Bene, bene. Vai Barbara. Il problema è che tutti vanno contro la palla. Lo schiaccio Z, R e cerco di passare tra. Amore. No, c'è Ale. Siamo uno contro l'altro. è mia, è mia, è mia vai papà, calcio calcio? calcio adesso no ma c'è Barbara che mi ha interrotto vai, vai grande Barbara passa, passa è il gol è il gol però non meritavate scusate abbiamo fatto molte più azioni noi è vero ma noi su rinnessa guarda, hai visto che l'ha fatto col salto? grazie, hai visto che l'ha fatto col salto anche te un po' dai via, colpo di testa non l'ho presa, mi sono letteralmente fiondato per terra, vai Gabi controlla, manda su brava di sacchi di sacchi, non si passa davanti alla porta dai 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 non ho benza c'è ma c'è ma occhio che c'è non ha benza grande ho fatto rimbalzare l'ho fatta rimbalzare grande, grande, grande oh no, non ce l'ho fatta di testa dove sei? dove ne porti? no, fermetela tira! no, no si pericolo assoluto vai vai, vai vai, vai vai, vai la faccio rimbalzare la faccio rimbalzare catenaccio catenaccio 10 secondi catenaccio Rina sbagliato 5 4 3 2 1 si si vai ce l'abbiamo fatta grazie batti 5 è stata combattuta molto combattuta ma ci sono anche i rigori li proviamo ragazzi si seleziona la gamba con cui calci abbiamo messo uno strap lo trovate nella confezione del gioco fisico l'altro ce l'abbiamo da ring fit adventure infiliamo il telecomando e useremo la gamba proprio per calciare al momento si possono fare i rigori a breve arriverà anche l'aggiornamento del gioco per cui si potrà giocare a calcio quello che avete visto prima usando le gambe si infila il joy con nella faccia e si lanciano le ciabatte ragazzi perché se no non hanno il controllo della ciabatta non lanciate le ciabatte arriva la palla al momento giusto? no bravi ma difficilissimo ma che bravi io ho sbagliato lo so quindi c'è un compagno di squadra che te la passa e tu devi centrare la porta 1, 2, 3 hai anticipato molto tu dall'altra parte ci sono ci sono ci sono vado un po no 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 si rimpicciolisce ma si rimpicciolisce si rimpicciolisce è vero è sempre più piccola hai ragione abbiamo scoperto adesso ecco la palla d'oro questa valida ai punti devo farla Addirittura No Abbiamo perso Sì ma posso, devo tirarla, voglio provare Vediamo se te lo fa fare No, ho tirato la palladora Non hai mai tirato, guarda, hai visto coppietti È il momento di sfigliare il padre figlio Sì, qualcuno ha qualcosa in bocca Ragazzi, come il mio tifo Come fai a fare il tifo mangiando Nicolò, cucciolo intenso Assumi la posizione da cucciolo intenso Guardalo, ma quanto bello è È proprio carino E la mia posizione è da vincente Avete visto che ogni volta che torno indietro cambia posizione? Devo pensare alla mossa per vincere Iniziamo dalla spada normale Ma non puoi mangiare mentre facciamo Sincronizziamo il joy-con Con l'ozetta sopra andiamo a difenderci Mentre se riusciamo ad andare, avete visto, dritto per dritto E facciamo una bella nuotata Io distravo il papà Ma come? No, no Bravo, vai Nini, vai Non è facile Ecco, se io paro in maniera centricolare Hai visto? Il coppolo prende lui Sì, ma è difficilissimo pensare No Grande Mi hai distratto veramente Se invece lui mi colpisce dritto per dritto I braccioli ti servono Non è vero Andiamo alla bella E questo vale sia per l'orientamento verticale Si sono allineate le cambare Il colpo è suo Via Via Che tensione Vai, Riki, vai Il colpo a testa è inferto E vai Attacca No, no L'ho messa di lato Ah, ma l'ho schiacciato Z Quindi ho scoperto, Ale Che se tu l'ho messo di lato Ma non scherzi Z Non ce la fai Ah Vai, vai È una sfida lunga No, no, no Dai, dai Dai, vai, vai No, no, no Siamo in piatto Non è vero Benicolo Benicolo No Come si gioca con due spade La prima volta che lo facciamo Punto ai controller Dov'è il mio pubblico, ragazzi? È andato a bere Adesso è tornante Ma come? Eh, sì Dopo aver mangiato E va bene I pugni ai controller In modo che i pulsanti Si è andato in verso di te Ok, così Questa è la posizione base Quando muovi i controller Giorcon Su e giù Destra e sinistra Le spade si muoveranno di conseguenza Quello è rosa Rosa, rosa Ma che sta facendo? Sta facendo Niki Facciamo un po' E allora rosa Rosa, rosa, rosa Colpisci Vai Niki Ecco, i tutorial sono molto belli Lo vedete Vi accompagnano passo passo Alla vittoria praticamente Quando usi due spade La tua potenza d'attacco Aumenta automaticamente Durante l'incontro Se le usi assieme Usa le assieme Niki Prova assieme Gesto comune Combo, combo, combo Quindi il principio è lo stesso Il colpo è verticale Quindi tu ti metti dall'altra parte Fraternizziamo Tra tic e pezzari Ma che bello C'è il giovellaggio Della tifoseria Tinto Aria Ma avete visto che bello Che si ruota È fortissimo Guarda, guarda l'incrocio Sono pronto Parto su in difesa Ma in realtà Il dia Sferro un attacco Doppio Tantissimo Siamo troppi A chi lo dici? Vai Uh Gliel'hai detto bene Vai 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 Il problema è che Cici stanca Dopo un po' Per quello Niki ti ha fatto stancare Mi sono fatto stancare io Gioccherò di tutta la schiena No Non funziona ragazzi Non fatelo mai No no Perché l'ho fatta In zona pericolo Vai Vai Difesa Difesa Wow E' in questo momento ragazzi Che il tifo è fondamentale Vai Matti Tifo 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 Aia Allora Che è successo? Ti siete scontrate Dietro c'è la chambara vera Vai L'ho preso Non voglio finire in acqua No 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 Non fermatelo No Sei stato cambarato Io consiglierai a tutti Cambiamo gioco Ritorniamo tutti in gioco Torna la mitica squadra Davide e Matilde Vai Va bene così Si gioca a tennis ragazzi Va bene Va bene Pronti La tensione palpabile Il campo rosa mi piace Battuta Lungoli Siiii Qui ci serve Ma ti ricordi il fumetto sulla guiale? E' identico Quando ti arrabbiavi Si Ma non mi servo a vedere il run Vai Mati subito Prima prova Ah troppo tardi Non ce l'ho fatta Vai Mati Bisogna colpire tanto presto Ci vuole l'anticipo Si Occhio Serve 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 E vai Ottimo Guarda la magia Sta bene Poi orientando il JCOM Andiamo la palla a destra Piuttosto che a sinistra Vai Mati adesso Buona Ma non la prendo più Vai sotto rete Vai sotto rete Sotto rete Vai Mati Sei tutti in un grande Mati Ancora Mati Si Oh Vai Mati Punto 30 pari Tu Guardate il gesto Guardate il gesto Bello No sono pucciosissimi Si faccio Adesso Fai un punto Con la spaccata Ci vuole la ginnastica ritmica Bisogna dire che lo faccio Ok No Ah fuori Si Un ritardo Vamo accoglietti a sorpresa Sob lungo linea Vai Liki Adesso Occhio Mati Vai Ah io mi tappo Buona 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 Ok Bene andata Adesso incrocio No non ho incrociato Via Vai 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 guarda che bello Lombolinea Buona 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 No Mi sono prostrata Avete visto? Sì ma voglio il falco Ma di quanto è uscita? Ma che è uscita? Tu ti sei allenata a calcio Ah qua si guarda Ti sei allenata a calcio A cuofarmi si Ma noi ci diamo per 20 Vai Una battuta potentissima Provesce E bisogna anticipare Mappi Uh guarda Hai visto? Hai annusato il terreno Hai annusato il terreno Che profumo aveva? Dichi tolgo in campo Buona buona No Fuori 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 C'è fuori 30 a 15 Vai Ok buona Attenzione Uh ho visto che lungolinea Uh No Lungolinea non esce due mani Bello risposta vincente Ma non ci arrendiamo Mappi Ci arrendiamo Mappi? No Brava Non ci arrendiamo Ok Vai Vediamo se funziona anche qua No L'ho preso al volo Ho sentito un po' la racchetta Chi ce la fatica Vai grande anticipo No Fuori Fuori L'ho vista L'ho vista L'ho vista E poi Game point Game point Buono Guarda che anticipo C'è Vai presa Uh guarda che Branco Brava Brava Ragazzi Vai Bel colpo Ce la fanno su Guarda Ma capisci No Devi rifarlo sul divano Allora Pronti Parità Dus Vai Brava Mappi Che avevo detto Grandissimo Lo sforzo di Matti va ripagato Con un punto Brava Sì Avete visto cosa ho fatto Matti dove sei? Matti per te Ragazzi Ho fatto il rovescio è vincere questi punti che ti dà il morale vai tac occhio vai 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 gioca sulla mamma profondo ora ci prova vai schiaccione lungolina no pari di nuovo questa partita non finisce più ragazzi mettetevi ancora comodi devo aspettare vai vai risposta vai sulla mamma e delle posizioni delle posizioni incredibili guarda questa è bella anticipo tanto anticipo tanto no Matti funziona non ti ricordi Ale se tu la prendi ovviamente no ma ci puoi per loro Matti non arrendiamoci la finta il lancio palla cortissima io ho fatto la foto esatto anche a me tutte le tende che sono buone guarda 50 60 no no prendila prendila no lo so non dovevo ma l'hai fatto posta ma no sai che la cosa non devi ma ormai hai il comando avviato vai 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 si ci sono ci sono Matti bravo Nicky vedete che buona hai visto come ha girato bene vai 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 non l'ho messa su Nicky vai sulla mamma l'ho pensata e adesso in fondo là sei su Nicky vai bella 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 mamma occhio batte la mamma decisiva tac guarda che bello dritto per dritto anche la mamma dritto per dritto vai Matti non serviva ma buona vedi che adesso no te l'ha presa Nicky che gentile grazie vedi che dal fondo va meglio Matti occhio Matti che dobbiamo conservare vantaggio lo stavo dai Nicky stavo per prendergli la se li farò la massa come prima vince bravissima bravo lini crociata Matti ha costruito per tutto ragazzi scocchi di terra rossa di terra rossa guarda adesso tolgo la terra rossa occhio che batte occhio 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 pallonetto guarda guarda non mi senti difficoltà non è vero non è vero ma come l'ha presa lì non lo so Matti mi raccomando il tempo ti aiuto questa è mia vai benissimo grande Nicky brava Matti grande ti ho messo in difficoltà non è vero incredibile colpo della mamma vai sotto rete Nicky fuori fuori non ci credo è bellissimo scusate no dovete far vedere i replay ho fatto di quelli starvataggi è stata molto brava è bellissimo Taki pam 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 l'ho fatto dritto con rovescio ho mandato lo stesso no mi dispiace mi dispiace profondamente match point Matti match point sei pronta Matti rispondi bene palla velenosa vai un pelotato no l'ha presa ah ah alle serve io rispondo guarda che lungolinea no incredibile hai preso il nastro fuori incrocio tanto Matti abbiamo dato match point bisogna stare attenti a tutti i match point ok occhio occhio al tentismo batte aspetta aspetta vai benissimo bene vai l'ho presa a volo grande bravi bravi la partita è finita sai come due partite di tennis che durano all'ultimo game non sai quanto bam guarda che bello questo tatan Matti dove sei per terra no fuori vantaggio loro Matti vai l'abbiamo fatta emozionare complimenti facciamo complimenti alla sua avversaria bravi belli siete belli ragazzi avesse un pollicione Nicolo bravo bravo ultimo gioco guai standard c'è quello speciale che cos'è lì? quello speciale ci sono degli ostacoli che si muovono anche già devi te lo colpire ok comincio vai Nicchi primo turno ah qua si può regolare eh vedi quella linea ah si si Matti hai lo sfondo giallo a me non va bene i comandi li vedete sotto come muoversi come prendere la mira e poi come andare e come fare strike no bene però siamo a poco square ragazzi e ci sono due tiri è vero due tiri come il buoni è vero la piazza dove ci sono i giochi allora questi sono i giochi diciamo che troviamo adesso ma in futuro si aggiungerà anche il golf che era un grande classico di Wii Sports ho fatto nove adesso tocca a me premo è terribile perché se ti rimangono i due della parte e dell'altra bravissimo devi si è è terribile ah è vero hai ragione ma vieni che si sono vicini che puoi fare colpisci uno così l'altro va giù e lo colpisci però tieni il joycon davanti al petto ok imita il lancio oh oh bravo nooo non ci credo non devi mollare ah non devi mollare devi tenere il premuto te l'ho detto prega comunque non era valido e vai andate guardate 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 che va fuori beh non è male beh non tre lì e potrei fare il mitico sper vuol dire buttarli giù tutti ma in dubbio allora petto ma no così ti va fuori come faccio a evitare non riesco mai guarda aspetta 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 nooo si devi ringraziarmi se lo fate ho girato di colso è andata vai Mati sulla mia casella ragazzi non vedete punteggio perché lui è andata a raddoppiare il tiro successivo che faccio la prossima volta va di là quindi non è che io sono zero non sei un po' a sinistra Mati ma lei sa che le va a destra buono Mati ne ho fatto sette come me guardate che imposta la direzione la giocatrice professionista no come ho fatto io ah quell'effetto finale guardatemi che stile vediamo lo stile spazio spazio scusate spazio spazio vi fate spazio via ma bello bello però la direzione del joycon perché lui dopo e tu vuoi dare la rotazione la rotazione è proprio come nel buon in vero quando vuoi la quina date un po' di rotazione alla palla ah uno ah troppa rotazione quindi il nostro video ragazzi siccome è già abbastanza lungo ma siamo divertiti troppo lo finiamo qua ma noi continuiamo a finire la partita esatto ma va vuoi che gioca io per te no 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 lo farò io e senza far cadere la palla scusate scusate la coppia da destra avuti cale sul piede dritto dritto avete visto non ho mosso sì ma che sfortuna ma potrebbe cadere nel canale a fare questo qua è difficile cadi nel canale cadi nel canale cadi nel canale è il tifo molto sportivo oh e vai guarda 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 VISTA spazio 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 non spera spazio comunque dicevo ragazzi noi finiamo qua il video ma passerò col microfono joycon a chiedere il gioco preferito del giorno passo d'ale mentre Marti tira è parabolo molto bello che a me è piaciuto devo dire mi associo forse è una novità più bella anche se il calcio si fa prendere adesso vado scusate vedo il tiro un po' esterno E' un altro E' un gioco preferito E voi ragazzi fateci sapere il vostro Sullo scopilo Instagram GBR E se questo video vi è piaciuto Mettete un pollicione E non buttatevi come nel gioco del calcio Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR Per rompere i prossimi video Ciao